Hanno anche un cervello e stanno a distinguere chi sono i veri nemici da chi sono i forti nemici. I nemici sono gli immigrati, i nemici sono gli emarginati, i nemici sono tutti quelli che non hanno lavoro e che devono lottare tra di loro per un misero posto di lavoro. Noi siamo qui oggi per dire che i veri nemici sono i potenti.